Una elezione sulla quale non c'era alcun dubbio ormai da tempo e che è diventata ufficiale in questi giorni. Perciò Leonardo Basilichi può pensare al suo secondo mandato alla guida della Camera di Commercio di Firenze. Cinque anni di lavoro con l'ampio sostegno delle categorie. Un progetto che ha come parola d'ordine la condivisione rispetto alle contrapposizioni che si sono viste non di rado in passato. Per quanto riguarda la squadra, la giunta, c'è un accordo tra le associazioni che prevede un rappresentante per Confindustria, uno per CNA, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Confesercenti e Lega Coop. Alla vicepresidenza della Camera si avvicina la nomina di Niccolò Manetti della CNA, mentre altre poltrone importanti andranno con tutta probabilità al presidente di Confcommercio Aldo Cursano e a Luigi Salvadori di Confindustria.